Ciao, fammi vedere il cartello, ok, vai, buttalo, ok, profilo, perfetto, bellissimo, l'altro, bellissimo, ok, fammi vedere le mani, un po' più aperte le dita, fammi vedere, ecco, brava, ok, una bella posa e un giro a 360 gradi, stupenda, bravissima, girati, sensuale, ottimo, va bene, ora facciamo un dettaglio, guarda, vediamo, partiamo dai piedi, ecco, girati un pochino di tre quarti, benissimo, la vengo su, bellissima, 360 gradi di nuovo, brava, muovi un po' le anche, benissimo, ora vengo su e finiamo con un bellissimo sorriso, ok, grazie, grazie.